musica vi sporo piotti al cine tra i napoletani e i napoletani mi chiami di te con la coca ma non hai fatto il burde ma non hai fatto il burde ma un po' così non vera alessi io sono incitato vi sporo piotti al cine per il quinto episodio e che cosa uscite oggi? mozzarella in carrozza Mozzarella in carrozza! Mozzarella in carrozza Mozzarella in carrozza è un'applicazione che è stato il primo che si è stato trovato nell'ultima storia Questo si è chiamato perché rilassisti vissi in carrozza da l'arrivo all'arrivo per l'arrivo 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 come si è preparato i nostri spettatori sono che si può essere come si è preparato come si è preparato come si è preparato come si è preparato poi abbiamo la nostra mozzarella poi abbiamo pepsi e sole poi poi un po' di parmesano e una torta e non ricordiamo il nome il prezionale il prezionale il prezionale ma anche un po' di più come si è preparato un po' di più ora il prezionale come si è preparato il prezionale e il prezionale poi aggiungiamo il prezionale sul prezionale prezionale bello il prezionale grazie aggiungiamo un po' di parmesano un po' di parmesano aggiungiamo il prezionale con il prezionale il prezionale e ma invece è vero di riempio perché non dà gli pane giusto se ci ricordiamo di fare questo il prezionale il prezionale bisogna fare il prezionale il prezionale o il prezionale il prezionale il prezionale il prezionale a il prezionale il prezionale il prezionale il prezionale adesso la 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 tarta e facciamo smascire come facciamo smascire bisogna smascire Sveac więc jak nasza mozzarella in carrozza jest w końcu gotowa jak będzie się dobrze zmażona to położemy sedzakum w którym musimy też papier żeby to duszyć od olej przypakować bo inaczej zbić tuż nie mam tak nie smakuje jednak położone zostaną tam 5-6 minuty w ogóle być sufer gorąco i już można zjeść la mozzarella è tutta con il papierosato ok se non vuoi poterlo in grado poterlo in grado poterlo in grado o no non importa non importa questo è un starter quindi come starter si prende il piaccio a zdrowie il piaccio è super a questo è molto bello e smaccheggo ooo prima di ci nono 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 non ringrazio di abbiare il nostro canale clicchiamo su il звонico per lasciare attualizare in effetto e per amoresposto le nostre filmiche se avete potremmo, come le vostre filmiche se sentiamo sempre disponibili passiamo sempre a voi vi direnci se sentiamo sempre a voi rispettate se sentiamo se preparate se sentiamo a sulle le notizie perché siamo sicuramente super e sentiamo a vedere e mostrari nostri studenti E adesso nascono a tutti? No, dai. Niente? 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 Niente?